Gentili telespettatori, buona giornata e sono ancora qui a parlarvi della sinistra anti-italiana. Voi direte, sempre con questi luoghi comuni, dimostralo, dimostra quello che dici, se no... Adesso ve lo dimostro, come tutti i giorni ve lo dimostro. Quindi non sono parole avanvera, non sono parole al vente, ma sono solide realtà, come diceva quello che vendeva le case, ve lo ricordate? Roberto Carlino, non vendo sogni ma solide realtà, io non vi vendo bufale ma vi parlo di solide realtà. Il partito democratico è anti-italiano, la sinistra in generale è anti-italiana, devo dirvi che è l'unica sinistra europea che è contro il suo paese. Ce l'hanno nel DNA, che dobbiamo farci? In Europa la sinistra vota contro l'Italia. Perché? Perché lo fai, disperata sinistra mia? No, quella era un'altra canzone, no? Perché lo fai, disperata... Beh, qui è perché lo fai, sinistra mia. Mia nel senso vostra, magari mia no. La Commissione per l'Industria, la ricerca e l'energia del Parlamento europeo ha approvato la relazione sulle case green. Il testo ha approvato con 49 favorevoli, 18 contrari e 6 astenuti. Fa parte del pacchetto FIT for 55. La direttiva della Commissione europea prevede la ristrutturazione energetica per gli edifici che hanno le peggiori prestazioni, la maggior parte di quelli italiani. La proposta della Commissione prevede che gli edifici in classe G, la peggiore, passino in classe F entro il 2027, in classe E entro il 2030. Secondo la posizione appena approvata dal Parlamento, l'Eurocamera chiede misure più restrittive con l'approdo in classe D entro il 2033. Beh, sono le modalità di classificazione. Ogni Stato dovrebbe indicare in classe G il 15% degli edifici, con le prestazioni peggiori, a prescindere dalla reale efficienza energetica dell'edificio. L'idea alla base è che in questo modo ogni Stato membro avrà una quota di edifici da efficientare. Cioè, i tuoi edifici sono tutti termicamente eccezionali e tu devi prenderne il 15% di quelli e dire che fanno schifo. Ve lo dico proprio in parole semplici, no? A te va bene come paese perché i tuoi edifici sono tutti nuovi, belli e... Beh, allora me ne prendi un 15%, mi fai risultare che sono i peggiori e li devi sistemare. A forza! Pensate un po', noi non abbiamo bisogno di quello. I nostri edifici sono già messi male di suo, non c'è bisogno di inventarselo, ecco. E ci sono paesi dove chiudono le carceri perché non hanno detenuti. Da noi solo per mettere in carcere quelli che hanno truffato col reddito di cittadinanza bisognerebbe costruire una città. Non una città studi, ma una città carceraria. Cioè un'intera città mettere i muri per metterci dentro quelli che hanno rubato col reddito di cittadinanza. Vabbè, insomma, sono differenze in Europa che ci sono molto marcate. Bene, per quello ci sono stati che non hanno edifici da ristrutturare, a forza gliene fanno ristrutturare, da noi invece la maggior parte sarebbero da mettere a posto. Bene, 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 cioè bene tra virgolette. La relazione dovrà essere votata nella sezione plenaria di Strasbourg per poi poter essere portata ai tavoli di negoziazione fra le istituzioni dell'Unione Europea. Ma questo passaggio potrebbe avvicinare gli italiani a una vera e propria bastonata sul portafoglio. Ma attenzione, altro che bastonata sul portafoglio. Tu dici, ah, devi pagare, adesso li paghi. Gli italiani prima di tutto ci vogliono, facendo i calcoli, oltre 100.000 ad appartamento, villette. Comunque si parte da 100.000 euro in su. Ma quale portafoglio? Ma dove sono gli italiani che hanno 100.000 euro, 115-120.000 euro per ristrutturare la casa energeticamente svantaggiata? Chi? Quasi nessuno. Sono 8 milioni di case da mettere a posto ad oltre 100.000 euro. Non ci sono neanche le imprese disponibili in Italia, perché immaginatevi, ammesso che ci siano i soldi, ristrutturare 8 milioni di case. Ma dove trovate le imprese che si mettono? Non ci sono il numero di imprese per ristrutturare 8 milioni di case. Impossibile. Non ci sono neanche i soldi. né le imprese né i soldi. Il centro-destra chiede che la norma venga rivista. Beh, ci mancherebbe. Va contro il nostro paese principalmente, come al solito. La sinistra vota contro gli interessi dell'Italia in Europa sulla case green. Eh sì. Un provvedimento ingiusto e sbagliato. Tutti vorremmo che le nostre abitazioni avessero il massimo dell'efficiamentamento energetico, perché risparmieremmo anche un sacco di gas, giusto? È un sacco di riscaldamento. Ma nessuno può indebitarsi di oltre 100 mila. Cioè, la casa, magari l'appartamentino vale 100 mila, e l'efficiamentamento energetico vale altri 100 mila. E poi la casa ti vale 200 mila? È chiaro che no. Vale sempre 100 mila. Però tu ne hai spesi... Hai speso altri 100 mila che potevi comprare un'altra casa, ma i soldi comunque non ce li hai, perché quei 100 mila li hai già presi a prestito dalla banca e gliele devi ridare in comoderate trentennali. Giusto? Ecco, quindi è una roba assurda. L'Italia dovrebbe dire scusate, nel mio paese questo è impossibile, oltre a votare no, non lo faremo mai. E come? Non lo faremo mai. Vi sanzoniamo e noi usciamo dall'Europa, andate tutti a quel paese. Quale paese? Quello là. Là. A destra, un po' più avanti alla rotonda a destra. E tu la fai facile, professore, usciamo dall'Europa. Eh, ma se è una roba che non si può fare, non si può fare. Ecco. Durante, dice un funzionario di Fratelli d'Italia, questa norma non tiene conto di troppe questioni, è ideologica e non realizzabile, ma anche se non fosse ideologica non è lo stesso realizzabile. I tempi stretti che l'Europa vorrebbe imporre durante il passaggio al Parlamento ci batteremo perché questa norma venga annullata o radicalmente modificata, perché così com'è è irricevibile, afferma il presidente della Commissione Ambiente della Camera, Mauro Rotelli, di Fratelli d'Italia, mentre la sinistra è compatta con l'Europa. Sì, questa norma ci vuole. Eh sì, sì, si deve fare. Votiamo con l'Europa. Allora, ditemi voi se sono o non sono degli anti-italiani. L'idea dell'Europa è anche giusta, efficientiamo, ma se in Italia è improponibile, qualunque rappresentante del popolo, qualunque partito, deve dire, bella l'idea, ma non si può. Arrivederci a tutti e grazie.